Salve a tutti amici artisti, oggi curiosando sul web sono entrato in possesso delle scene di un film che ho visto che poco dopo sono state subito rimosse quindi praticamente mi posso ritenere quasi l'unico possessore di queste scene di film che poi a fine video posterò e ve le farò vedere si tratta praticamente delle scene, diciamo di anticipazione del finale di Avengers Endgame il film penso più attisto dell'anno se non avete intenzione di vederlo vi dico già da adesso bloccate il video e non lo guardate perché magari non volete spoiler altrimenti guardate il video quindi partiamo con il video quello che avete appena visto non è un fake ma bensì le scene reali di Avengers Endgame e di questo neanche le prove partiamo vedendo il professor Hulk che indossa il guanto dell'infinito inoltre vediamo Thor con i capelli lunghi e Rocket e possiamo vedere la potenza delle gemme che scorrono dentro il professor Hulk poi vediamo Thor che dice al Cap di togliere il guanto ad Hulk ma lui insistendo gli dice di no ora vediamo una delle scene più epiche Capitana America che prende il martello di Thor apro parentesi piccola chicca questa scena stava già accadendo in Age of Ultron chiusa parentesi come dicevo prende il martello di Thor perché il suo scudo è rotto come vediamo nella scena inoltre vediamo Thanos che sembra non avere il guanto da come vediamo nella scena poi vediamo una parte della battaglia ed una scena sperata vediamo Peter e Tony che si abbracciano può sembrare la scena di Vinity War però guardando bene si vede l'armatura nuova di Tony ora vi do la prova del fatto che le scene non siano un fake infatti possiamo vedere in entrambi i video Tony che impugna uno scudo e quindi vi farò vedere le scene spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente voglio precisare che tutte le parti di video che contengono le scene del film sono di proprietà della magia e anche le immagini e quindi lo contengono anche le immagini se arriviamo a 1000 like vi passo tutti i file originali di questo video del film ripeto lasciate like condividete il video commentatelo e al prossimo video avvengers endgame rated PG-13 tickets on sale now the end is near when I'm done half of humanity will still exist Thanos did exactly what he said he was gonna do he wiped out 50% of all living creatures call control code red Nick we lost all of us we lost we're in the endgame now if we do this we'd be going in short handed yeah you mean because he killed all our friends we owe this to everyone who's not in this room to try it's not about how much we lost it's about how much we have left we're the Avengers we gotta finish this you trust me you trust me I do you could not live with your own failure where did that bring you back to me tickets on sale now tickets on sale now